Da quando siamo passati Welcome Italia non abbiamo più avuto dei disagi. Quelli che sono disallineamenti, riconfigurazioni, riassetti li fanno periodicamente. Alle volte noi veniamo a sapere che c'è stato un problema da Welcome Italia ancora prima di avere sperimentato il problema. Questo è riferito ad altre sedi dove abbiamo delle condizioni sempre gestite in ambito aziendale. Loro hanno un monitoraggio assoluto della corretta funzionalità delle utenze. Il problema che noi possiamo vivere a loro è già noto e ci stanno già lavorando quando glielo segnaliamo. Rispondevano sempre in presquilli. In realtà ci troviamo nella condizione di non poter nemmeno più sperimentare questo tipo di performance perché quando c'è un problema sono loro a chiamarti.